Iniziamo la conferenza stampa. Calicchia, Roma TV. Salve mister, questo miniciclo di partite da sosta a sosta della Nazionale, iniziato col Napoli, si chiuderà con la Fiorentina in mezzo che sono state la vittoria con il Chelsea, il pareggio con il Chelsea e altri successi della Roma. Cosa le ha detto questo miniciclo? In cosa è migliorata la Roma e in cosa deve migliorare? Sicuramente grande compattezza di squadra. Io vorrei che continuasse così più che migliorare, perché alla fine ci lamentiamo che facciamo pochi gol e poi ne abbiamo fatti tre al Chelsea, il fatto che la squadra ha grande solidità difensiva. Continuare su questa strada cercando di concedere poco ancora agli avversari come stiamo facendo, però tante altre cose si possono migliorare come determinati meccanismi, il fatto di poter lavorare ancora più tempo insieme. E' un peccato perché c'è la Nazionale, magari con tanti altri giocatori non si potrà fare, ma sappiamo che è così, quando si allena poi una grande squadra come la Roma, la possibilità di allenarli sempre non c'è. Però sono soddisfatto di quello che ha fatto la squadra fino adesso, ma non mi accontento perché manca una partita. Per poter dire questo miniciclo di partite comandata aspetto la partita di domani che ritengo molto delicata. Spinelli, Roma Radio. Buongiorno mister, appunto la partita di domani di solito la trasferta di Firenze non è mai semplice. E come si gestisce secondo lei tutto l'entusiasmo che si è generato dopo Roma-Celsi? L'entusiasmo all'interno dello spogliatorio dà grande consapevolezza a quello che abbiamo fatto in questo periodo, ma non deve dare abbassamento di tensione o un pizzico di presunzione di sentirsi bravini. Questo non deve accadere. Questa è la prima cosa che ho cercato di trasmettere ai ragazzi e sono convinto che domani dobbiamo fare e dobbiamo fare. Voglio che la squadra interpreta al meglio questa gara con grande determinazione come l'abbiamo fatto con il Chelsea. Mangiante, scresporti. Eccoci. Domani se non dovesse giocare De Rossi il capitano sarebbe Florenzi, sarebbe la prima volta in questa stagione. Da primo minuto. Allora chiedo innanzitutto come sta perché ha avuto qualche piccolo problema muscolare dopo il Chelsea. E poi oggi a via Zanetti lo ha detto di rivedersi lui. Quindi il nuovo Zanetti ha detto ma mi rivedo in Florenzi per tutta una serie di motivi. Chiedo se ci può essere una similitudine tra appunto Zanetti e Florenzi. Innanzitutto per poter essere capitano deve giocare e poi non deve giocare Daniele. Ma il fatto che come hai detto tu ha avuto qualche problemino oggi lo valuteremo. Anche se credo che di poterlo recuperare per questa gara. Caratteristiche tecniche secondo me non sono simili. Caratterialmente invece sono simili. Il fatto che la predisposizione a giocare in tutti i ruoli, il senso di appartenenza, quello che ha fatto Zanetti per tutta la sua carriera. Questo sì, tantissimo. Sono due giocatori molto simili. Però per caratteristiche tecniche e fisiche no. L'altra curiosità riguarda le parole. È stata un'intervista molto bella, interessante, del direttore sportivo Monci sulla Gazzetta. Ha un po' sdoganato la parola scudetto. Nel senso non è un tabù, se ne può parlare. Ha detto abbiamo il dovere di provarci. Siamo partiti in svantaggio ma stiamo arrivando al livello di Napoli, Juve e Inter. Ha detto bene. Dobbiamo recuperare il terreno perso perché noi non siamo favoriti. Stiamo rincorrendo il desiderio di rimanere attaccati alle squadre lì davanti e poi più avanti faremo delle valutazioni. È troppo presto per dirlo. Però già il fatto che siamo lì, abbiamo una partita in meno, questo è significativo ed è importante. Per fare questo dobbiamo cercare di portare anche domani una vittoria a casa, sapendo che è una partita molto difficile. Poi del direttore mi è piaciuta molto l'intervista, tranne la foto che si può guardare che gioca a calcio. Buongiorno Di Francesco. Io torno indietro nel post partita di Roma-Celsi. Quando De Rossi fa questo tipo di analisi, dice partite di questo tipo, tempo fa le avremmo affrontate in un altro modo, aspettando l'avversario, rimanendo più bassi. Con Di Francesco questo è cambiato, li andiamo ad aggredire, li andiamo a prendere alti. Volevo chiederle, è stato più difficile dal suo punto di vista, nel suo lavoro quotidiano, convincere mentalmente la squadra che questa fosse la strada giusta o addestrarla tatticamente per avere questi risultati? Io credo che l'allenatore, se non a destra, che ci sta a fare? Nel senso che è fondamentale che uno trasmetta le proprie idee, il proprio pensiero, e l'idea che può avere è far vedere ai giocatori il vantaggio che hai facendo determinate cose. La partita contro il Napoli per me è stata significativa, è stata di grande insegnamento anche per loro, principalmente, facendo capire che anche grandi squadre, specialmente con tanta qualità, più li tieni lontano da tua porta e meglio è. È ovvio che a volte c'è il potenziale di una squadra, come è successo anche con il Chelsea, che in un momento della gara ci hanno abbassato, però per gran parte della gara il desiderio dei miei calciatori era quello di andare nella metà campo avversaria. E questo è un aspetto positivo, in questo dobbiamo avere ancora più maggiore continuità, ed è quello che dicevo prima anche sul miglioramento. È normale che per fare questo non mi sveglio la mattina e ti dico fai quello. E come a scuola bisogna esercitarsi per potersi migliorare e cercare di migliorare determinati meccanismi. Buongiorno. Io volevo sapere se in passato è stato vicino alla panchina della Fiorentina, quanto effettivamente è stato vicino? In passato sì, quanto non lo so, però è una storia passata. Lusingato di essere stato lusingato, ma finisce lì, per quello. Sono contentissimo, ho letto qualcosa in base a quello che è stato un po' quello che potevo fare prima di venire qua. Io sono contentissimo di stare qua. Come da calciatore ho scelto di venire a giocare nella Roma, come allenatore sono contento di essere qua. Compreggio i difetti dell'ambiente, ma a me piace. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Si è detto, si è scritto, si è letto per un po' che la Roma segnava solo con Dzeko. Adesso, nelle ultime settimane, Dzeko non segna più e la Roma vince lo stesso. Le volevo chiedere, è un dato positivo che la squadra abbia imparato a fare a meno di Dzeko? O è Dzeko che ha un po' abbassato la sua pericolosità offensiva? Se è stanco, pur avendo giocato una partita straordinaria, a mio giudizio, contro il Chelsea? Io credo che a volte, quando si parla degli attaccanti, le grandi squadre, come Higuain, quando con Napoli non so quanti gol fece, è normale che anche il Napoli ha dimostrato che senza Higuain vince le partite. È un discorso anche di collettivo. L'attaccante è lì davanti per fare gol, ed è fondamentale che li segni. Quando non segna lui, è un gran segnale che la squadra ugualmente riesca a vincere, ed è importante. Però posso sottolineare una cosa di Edin. Sono molto contento di quello che sta facendo e per come sta lavorando per la squadra, per la predisposizione che ha nei confronti dei propri compagni. Poi i gol arriveranno, magari a partire anche da domani, e ne sono convinto perché è nelle sue corde e nelle sue qualità. Però il suo lavoro è veramente determinante per noi. Per poter giocare in un determinato modo, come dicevo prima, per essere bravi ad aggredire gli avversari dall'altra parte, le aggressioni degli attaccanti diventano fondamentali. Pastore Romanista. Buongiorno. Sì. Domani è l'ultima partita prima della sosta. Il ricorso al turnover sarà meno cospicuo del solito? Non lo so che con questo turnover, perché a volte cambio meno, cambio di più, valuterò. Però a volte ci sono delle esigenze di giocatori che magari non hanno recuperato dopo partite così una dietro l'altra importanti, come quella col Chelsea che è stata veramente dispendiosa da parte di tanti calciatori, così come giusto che sia. Per quello per Firenze farò delle valutazioni. Sicuramente cambierò ancora qualcosa. Zucchelli, la Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Io volevo chiederle un giudizio su El Sharawi, se si aspettava questa sua crescita, questa sua maturazione. Grazie. El Sharawi quando l'ho messo a destra con l'Inter non poteva giocare a destra. Oggi l'ho messo a destra col Chelsea, ha fatto due gol, ci può giocare alla grande. Che significa questo? Significa che quando un giocatore matura sotto tutti i punti di vista e riesce a interpretare ciò che gli chiede un allenatore, il fatto di stare sempre più in partita nelle due fasi, sta crescendo da questo punto di vista. Io sono molto contento di quello che sta facendo, ma secondo me può fare ancora meglio, perché ha grandissime potenzialità. Sono contento, ma non mi accontento. Questo è un po' il concetto. Valdiserri, il Corriere della Sera. Buongiorno. Si parla molto di lealtà sportiva, fra l'altro credo che Monci forse le fa il complimento più bello in quell'intervista, quando dice che lei guarda sempre tutti negli occhi. Adesso Manolas verrà squalificato in nazionale perché ha preso un'ammunizione, diciamo così, intenzionale. Poi nello stesso tempo non si riesce in Italia a far sì che una squalifica, come è successa alla Lazio, di un intero settore venga poi davvero mantenuta, perché questi tifosi che erano stati squalificati andranno da un'altra parte. A lei sembra che in questo l'Italia sia rimasta ancora un po' indietro, proprio su questo discorso della lealtà sportiva. Sicuramente sì, anche se i furbi li fanno anche all'estero, per quello non è solo che in Italia. E dico che poi ci sono gli organi competenti che si devono preoccupare di tutto ciò. Poi non ho visto l'episodio di COSAS fino a che punto ci sia stata l'intenzionalità di voler prendere un'ammunizione. Nel calcio di una volta che si dice che era meglio, queste situazioni qua sapete quante ce n'erano, solo che erano meno in vista e se ne vedevano meno. Lo dice uno che ha calcato tanti campi, anche più bici. Siamo migliorati già tanto, sono convinto di questo a livello di lealtà sportiva. C'è maggiore attenzione e c'è anche maggiore cultura. Però si può fare sicuramente meglio, come succede in quello stato dove siamo stati a giocare col Chelsea, che è stata veramente un'atmosfera stupenda, che si è ripetuta all'Olimpico, visto che abbiamo anche vinto, che è stata ancora più bella. Per quello è successo anche in Italia. Poi volevo dire, non ho parlato dei convocati, anche dei giocatori per darvi qualcosina, anche voglio dire, sarà convocato per la prima volta quest'anno Emerson, che rientrerà con la squadra e di questo siamo tutti contenti. Ha fatto tutto quello che ha da fare, il suo percorso di riabilitazione di campo ed è pronto per venire in panchina ed essere convocato. Di questo ne sono molto contento. Parisi, centrosuono sport. Buongiorno mister, nell'ambito del turnover, le riporto un dato di Roma-Celsi, per quanto riguarda i calciatori che hanno corso di più. Prima e seconda posizione Daniele De Rossi con 12 km e Kevin Strootman con 11 km e 8 m più, m meno. Le chiedo, proprio nell'ambito del turnover, sono loro i candidati a riposare domani? Questo non significa niente, anzi, al contrario, dimostrano che hanno una buona condizione. Però dovete imparare a non guardare solo i metri percorsi, perché si possono fare anche 11 km con grande qualità. Ci sono delle corse differenti. Daniele e Strootman, essendo due centrocampisti, io ho fatto i centrocampisti, se non corri un po' giocare e devono correre per forza, se no non riesci ad avere delle prestazioni di un certo livello e si devono sacrificare. E' il duro lavoro del mediano, come si suele dire, insomma, del centrocampista, che per qualità, anche fisica, deve essere un giocatore che deve avere grandissima continuità di corsa. Poi ci sono invece i giocatori che fanno 11 km, ma con alta qualità di corsa, che sono cose differenti. Buon pomeriggio, mister. Turnover, infermeria a parte, dopo la bellissima, convincente prestazione con il Chelsea, il suo tridente titolare è Escharawi, Giacoperotti. Grazie. No, in base alle esigenze, in base alla squadra che andremo ad affrontare, sicuramente rigiocherà domani Edin, gli altri ancora devo decidere, perché ci sono delle situazioni anche di recupero in questi giorni. Più che lavorare, abbiamo dovuto recuperare, a significare del grande sforzo che ha fatto la squadra, non solo fisicamente, ma anche nell'andare a preparare questa partita a livello psicologico. perché ci sono tanti aspetti da valutare. Per quanto riguarda la formazione, sinceramente, oggi, uno può pensare che già c'è una testa, in alcuni ruoli non ho ancora deciso. Prego. Ultima, 30. Salve, mister, buongiorno. Il CT del Belgio, Martínez, ci ha detto che nella sua idea di calcio, Nainggolan è un numero 10. Io le chiedo, avendolo visto sia da trequartista che da intermedio nel centrocampo a tre, qual è il ruolo ideale per Nainggolan, soprattutto se è d'accordo con il commissario tecnico del Belgio? Io non so che significa numero 10, se gioca dietro la punta è numero 10. Per me fa la mezzala e può essere di grande qualità. Per me, con me, fa il numero 10, difatti, da mezzala. Se io dovessi dare delle maglie, giocando a sinistra, da 1 a 11, lui prende il 10. Per quello anche per me è un 10. Dipende sempre dai punti di vista. Poi è ovvio che ogni allenatore è giusto che abbia una sua visione di un calciatore. Io ho un sistema di gioco in cui Raja fa la mezzala. Magari in questo momento sta facendo pochi gol, ma non vi scordate che di occasioni ne ha avute per fare gol. Tornerà, e sono convintissimo, che tornerà anche a fare gol e a fare delle giocate da numero 10. Per quello sono contento che lui sia stato convocato. Gli ho fatti i complimenti, ma non ho parlato di tante altre cose, perché non mi interessa, perché nella mia testa in questo momento c'è la Fiorentina e Raja dovrà fare una grande prestazione se mai dovesse scendere in campo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.